queste bollette stanno creando preoccupazione, apprensione nei cittadini, soprattutto nelle fasce più deboli voi vi siete subito attivati però? Sì, abbiamo immediatamente recepito le difficoltà dei cittadini e quindi come azienda abbiamo chiesto come dire spiegazioni, indicazioni a Prometeo infatti ieri sera proprio Fano TV ha mandato appunto il comunicato stampa rilasciato da Prometeo in cui è evidente quanto costa il gas e quanto è alta l'imposta fiscale quindi il 38% costa appunto il gas certamente Asset Holding ha immediatamente chiesto a Prometeo di controllare maggiormente i dati e i cittadini che vogliono ovviamente accedere ai nostri uffici saranno accolti con più come dire ancora precisione anche nelle stesse loro difficoltà e contatteremo direttamente ho sentito la signora ieri sera diceva appunto che bisogna contattare Prato in realtà ci possiamo mettere immediatamente in contatto noi e quindi cercheremo di fare il meglio possibile per ridurre l'isagio dei cittadini Allora abbiamo sott'occhio la bolletta proprio del Presidente Susanna Testa che ci serve da esempio spieghiamo il meccanismo degli acconti e dei conguagli quindi nella bolletta noi comunichiamo sempre che occorre ebbene per l'utente mi raccomando fare la lettura del contatore e qui è indicato esattamente il periodo qua potete vedere l'ultimo periodo che è il prossimo dal 27 di luglio al 31 luglio 2016 quindi se l'utente farà questa ulteriore lettura nella prossima bolletta che sarà trimestrale perché l'estate si consuma un po' di meno avrà una bolletta proprio sul reale consumo questo è consigliabile perché le stime magari possono riportare i valori presunti dell'anno precedente quindi con la lettura data dall'utente uno ha una fatturazione più pulita Ribadiamo che a conguaglio i consumi e gli acconti verranno livellati in questo senso questo già diciamo chiudiamo la prima fatturazione del primo periodo fino al 30 di aprile se eventualmente rileviamo dei valori anomali o li riteniamo più elevati rispetto al nostro reale consumo che cosa si può fare? consigliamo di verificare se il contatore gira correttamente quindi spegnere la fiammella della caldaia chiudere la cucina, la manopola che non ci sia altro consumo in casa scendere subito a vedere il contatore e lì vedere subito se il contatore gira è un problema e che avvisarci quindi chiamarci poi se invece il contatore è fermo vuol dire che funziona bene è corretto grazie a tutti